Partite! Il leggero ritardo Astragalus in vantaggio si porta Bahamian Skill con all'interno Come From, segue all'esterno Divin Tenerife, poi più indietro Pastoral Princess e Astragalus. Siamo ora dopo metà gara con Bahamian Skill in leggero vantaggio nei confronti di Come From al suo interno Divin Tenerife a largo, poi Astragalus e in coda Divin Pastoral Princess. Sta allungando Divin Tenerife a centropista nei confronti di Astragalus, quindi Come From e Bahamian Skill. Nel tratto conclusivo Divin Tenerife subisce l'attacco deciso di Astragalus, nel finale lotta incerta tra Divin Tenerife e Astragalus fin sul palo. Poi al terzo posto Bahamian Skill nei confronti di Pastoral Princess. Andiamo a rivedere le immagini che la regia ci ripropone con Divin Tenerife all'interno e Astragalus a largo ed è lotta incertissima fin sul palo. I due in linea, quindi si dovrà aspettare il risponso del giudice di arrivo.